Marco Gniucci, tecnico della Juniors del Trestina, non parliamo della tua Juniors, ci concentriamo su quanto è bello questo Trestina, primo in classifica, ha messo dietro il Villa Biagio e la Subasio, due delle squadre favorite ad inizio campionato per il salto di categoria, il Trestina c'è, si fa sentire, è un bel vedere. Sì, Trestina c'è, c'è come società, società seria, compatta, con programmi ben delineati, precisi e chiari, un allenatore che per me è una sorpresa, l'ho avuto come ragazzo nelle giovanili del Città di Castello, ne avevo seguito le vicende quando allenava a Umbertide e adesso tocco con mano le sue qualità, le sue capacità di tecnico, è un ragazzo che oltre che essere preparato si è calato benissimo, e non poteva essere altrimenti sulla realtà di Trestina e le cose stanno andando abbastanza bene. Villa Biagio e Subasio sono due squadre che all'inizio erano candidati alla vittoria finale perché probabilmente e anzi sicuramente avevano come obiettivo quello di vincere questo campionato, si ritrovano a dover fare i conti con un Trestina che ricominciando un nuovo ciclo dopo la retrocessione dall'Interregionale di anno scorso si trova molto avanti, anzi in questo momento anche più avanti di tutti. Allora, domenica ci sono degli incroci interessanti sulla carta, il Trestina sembra avere la partita più semplice, però ribadiamo sulla carta. Se sulla carta è tutto abbastanza semplice e sembra che tutto abbia una logica, poi il campo con le sue variabili spesso dimostra che la carta conta poco, quello che conta è sicuramente come il Trestina continuerà la sua marcia di avvicinamento alla fine del campionato, perché se il Trestina scende in campo la domenica come ha fatto con la Subasio, come ha fatto con il Villa Biagio e domenica a Narni, credo che poche squadre in questo momento possano reggere il passo del Trestina.